E bella a tutti ragazzi e ragazze e ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi ragazzi siamo qui con un video particolare Perché ragazzi è uscita una nuova skin su Fortnite troppo bella So bene che dovrebbe essere teoricamente una skin di Star Wars Ma per noi ragazzi è tutt'altro Perché da oggi questa skin verrà battezzata direttamente da noi come Suor Cappella Non me ne frega niente, non si discute, il suo nome da oggi è questo Quindi oggi andremo in partita a benedire tutte le persone che saranno in partita Che troveremo di fronte a noi Quindi ragazzi mi raccomando, venite di cominciare con il video Lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E mi raccomando ragazzi vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola Dalle ore 17, link in descrizione Ma ora non perdiamoci chiacchiere e passiamo subito al video Vi auguro una buona visione È un po' inquietante questa skin, io devo essere sincera Cioè mi fa un po' impressione Cioè immaginatevi che noccate uno su fortemente questa skin e gli fate questo Cioè allora, ditemi se secondo voi sbaglio Ma io andrei a giocare con la skin della suora Appiniamo lì con la suora La chiameremo Suor Cappella Questo è il suo nome Non è la skin di Star Wars No, lei è Suor Cappella Che è sta roba? Suor Cappella è un'azione Noi non troviamo nessuno Con la spada punisco i peccatori, esatto Ah frate, hai fatto un'azione bruttissima Suor Cappella Spara Suor Cappella ti punisce Non puoi sfuggire da Suor Cappella Andiamo sopra che c'è gente Attenzione, scontro incredibile Scontro incredibile La suora attacca La suora vince La suora vince, signori Suor Cappella La migliore A livello internazionale Questo era uno scontro, ragazzo L'ultimo sangue Non per dire Alto che Star Wars L'ho fatto io il remake Ragazzi, in Napoli non c'è nessuno C'erano solo questi due cristiani Che li ho battezzati per bene Con la suora, però Per la madonna Vabbè, andiamo via Facciamo il car armato Della suora Cappella Guarda il car armato che te creo Tac Tac E andiamo a cercare i bambini Con questo Bisogna che sono sulla mongolfiera Eccoli Buonasera Sta arrivando la suor Cappella A battezzarvi tutti No, però Manca a far così Cioè, mi sembra un po' Un'esagerazione Quello che appena è successo Quello che sta cavalcando i poni Eccolo qua Arriva la suora A battezzarvi Oh, snorzi Che nel chilling Dai cane Paca gente si trova Raga, ultimamente No build Cioè, siamo rimasti In 14 No killa di 4 E sono atterrato a finnacoli, eh Chissà se hanno levato Il bug della mongolfiera E infatti Chissà se l'hanno tolto Ma più importante Chissà se hanno tolto Il bug Quello che quando nocchi Qualcuno e lo ammazzi Non puoi andare avanti Perché c'è tipo Il corpo invisibile davanti Quello lì penso che sia Uno dei bug più Più fastidiosi Quello lì Finché giochi in solo Sai Si prima quando giochi in duo Arriva Suor Cappella Frate Non puoi toccare Suor Cappella Cioè Non è effettivamente Una cosa che tu puoi Effettivamente fare Capito Buona sera Gringo Allora Sebastian Tu pensi veramente Di poter scappare Da Suor Cappella Cioè non puoi farlo No No Domanda raga Posso parare i colpi di cecchino Con l'arma Ditemi di sì Vi prego Vi prego Ditemi di sì Si possono parare i colpi di cecco È importante questa informazione Cioè proprio È di vita di importanza Ok si può Perfetto Grazie per l'informazione Mi serviva Se no se ci morivo Mentre che provavo a parare Facevo una figura Non di merda Proprio peggio Il colore è starma È blu vero Ma ora è bella Perché Vabbè dai Teniamoci Teniamoci la spada laser Per il meme Dai facciamo qualche cazzatina Avrei riso tanto Io avrei pianto Avrei bestemmiato In turco No perché In teoria I colpi ti possono anche entrare Devi proprio Essere tu puoi A parare bene Dall'altezza Perché sono rischi Proprio che ti prenda Buonasera Posso entrare Grazie mille No non ho messo la chiave Eh suor cappella Non è brava A infilare le chiavi Quando è l'inverso Sì se no Non funziona State lì Fammi vola Vamos Allora dove stanno Le mie prede Ok ce n'è una in macchina Un'altra in macchina Il terzo è in open Ok il terzo è nel bush Allora busciamoci questo Che da solo Tiktok FPS Eh frate Tiktok Mi sa che è più di due falle Suor cappella 1-1 situation Oh my god Ok Ok quindi Ha lasciato la macchina Non l'avevo mica vista io Buonasera Suor cappella Signori Suor cappella Vince il game E si mette sul suo trono Insieme al suo prete Benedizione Effettuata con successo Dalla suor cappella DG a suor cappella Signori Provo brava E' veramente brava Nel suo lavoro Poi con il fucile a pompa Devo dire che Fa dei danni Proprio belli succulenti Complimenti Suor cappella Proprio lei E' già esperta con le armi Diciamo che non è esperta Con il fucile a pompa Ma è esperta con Le Le Grande suor cappella E' diverso Grande suor cappella Suor cappella Mamma mia Mamma mia che lirica Signori Suor cappella Nuovo boss Suor cappella Con il fucile a pompa Fate danni succulenti Esattamente Tommaso E' proprio quello Che ho appena comunicato E mica qua stiamo scherzando Non è che siamo qua A trollare in giro Per strada Bene ragazzi Siamo giù dal termine di questo video Io spero che vi sia piaciuto Come avete visto Abbiamo battezzato E benedetto Diverse persone qui Oggi su fortnite Con la nostra Bellissima Suor cappella In realtà neanche troppi Ragazzi Perché come avete visto Sono andata anche in una zona Bella in genere Contestata e popolata Ma stavolta Non c'era nessuno Cioè sono stata mezz'ora A cercare le persone in game E non si trovava nessuno Sapete perché? Lo sapete già Questo perché le persone Avevano paura Della presenza Della nostra Amatissima suora Questa è l'unica Vera spiegazione Non è Questo e basta Punto Ragazzi Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Lasciate un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Io vi ricordo ragazzi Che nuovamente ci rivecchiamo In un prossimo video Dalla vostra Cratomist è tutto Bella a tutti ragazzi